Ued, dopo le accuse di business, Teresa mette a tacere le malelingue Dopo la conclusione del suo percorso a uomini e donne, Teresa Langella è finita al centro di una bufera mediatica molto forte Molti fan hanno pesantemente attaccato lex tronista di essere solo interessata al business Da quando ha abbandonato il programma, il profilo Instagram della Langella è divenuta una vera e propria vetrina nella quale non fa altro che sponsorizzare prodotti che le inviano le aziende Per questo motivo, molte persone hanno sentito la necessità di manifestare il loro disappunto e di mettere in evidenza il fatto che la protagonista sia molto cambiata dopo la fine del suo trono A ogni modo, dopo le numerose accuse, Teresa ha deciso di rispondere a tutti e mettere a tacere le malelingue Ecco che cosa ha rivelato attraverso le igstories presenti sul suo profilo personale Le accuse di business contro Teresa Langella Teresa Langella è stata una tronista molto amata La sua spontaneità e la sua semplicità hanno sempre conquistato il cuore dei telespettatori Ad ogni modo, una volta terminato il suo percorso, pare che lex tronista abbia cambiato radicalmente atteggiamento La ragazza sembra molto più interessata a fare business piuttosto che a mostrare la quotidianità delle sue giornate Molti fan, infatti, hanno deciso di criticarla fortemente dicendole di aver reso il suo profilo un luogo pieno di sponsorizzazioni Nel tentativo di mettere a tacere le malelingue, Teresa ha deciso di rispondere alle accuse una volta per tutte Durante alcune igstories, volte sempre a mostrare i prodotti inviati da alcune aziende, lex tronista di uomini e donne si è rivolta a tutte quelle persone che lattaccano difendendo la sua posizione Lex tronista mette a tacere le malelingue così La Langella ha spiegato che se consiglia ai fan i prodotti di alcune aziende lo fa perché reputa davvero valida la merce che le inviano Teresa ha spiegato di non credere fosse necessaria una spiegazione simile, ad ogni modo, per far tacere le malelingue ha voluto smentire tutte le accuse sul suo conto Dopo aver fatto questa breve premessa, la ragazza ha continuato a sponsorizzare prodotti In questo caso, si trattava dei body modellanti di un famoso brand che, nellultimo periodo, sta spopolando sul web In ogni caso, le parole adoperate da Teresa per chiarire tutta questa situazione saranno servite per mettere a tacere i rumors sul suo conto? Non ci resta che attendere per scoprire come si comporteranno i follower nei suoi confronti Al prezzo